È stata una nota inviata in tarda serata a dimostrare chiaramente come non è per nulla finita la crisi per la riminese Banca Karim. Il noto istituto di credito ha annunciato di aver comunicato a lavoratori e sindacati un nuovo piano di taglia al personale, operazione necessaria vista la sua tragica situazione finanziaria. Il presidente Sido Bonfatti, come riporta il resto del carrino di Rimini, indica in 90 gli esuberi. Karim, dopo la fine del commissariamento, era già passata da 775 a 665 dipendenti e si avvia ora ad una ulteriore riduzione. Qual è lo scopo? La banca vuole ridurre i suoi costi vivi per rafforzare il proprio patrimonio. Non c'è altra strada, commenta ancora Bonfatti. Il problema dello scasso patrimonio della banca viene dagli anni del commissariamento. Un periodo in cui sarebbe dovuta arrivare una ricapitalizzazione da 100 milioni di euro e che invece si è fermata a 75. Intanto sul risico nazionale degli istituti di credito non è ancora escluso un intervento di Cari Parma Credi Agricol che potrebbe rilevare man mano non solo la Cassa Riminese ma anche la Cesenate Carisp e la Cari Ferrara. Questo almeno è l'auspicio se non dovesse arrivare un aiuto di questo tipo Carime o potrebbe essere costretta, come già accaduta Cesena, ad un aiuto di Stato o a ricorrere al fondo interbancario. Un dato certo? I gravi errori gestionali del passato e anche la crisi porteranno quasi certamente la proprietà della banca fuori dai confini riminesi.